Non ci sono per ora elementi che possono destare particolari preoccupazioni per le esalazioni scaturite dall'incendio che nella notte ha interessato uno dei cappannoni della Sodeco, l'azienda di cosmetici in via Guidi a Senigaglia. Lo conferma in una nota l'amministrazione comunale che esclude la presenza di diossine, metalli e ipa, idrocarburi poriciclici e aromatici. Il fumo tuttavia potrebbe causare irritazioni alle vie respiratorie e alla mucosa oculare, soprattutto nelle persone asmatiche o che soffrono di patologie connesse. Nessuno è rimasto ferito, ma a scopo precauzionale, in attesa dei rilievi dell'ARPAM, il sindaco ha deciso di chiudere diverse scuole e strutture private. Chiuso anche un tratto di via Mattei nell'area interessata, mentre gli abitanti sono invitati a non consumare verdura raccolta nel raggio di 5 km, ad evitare di aree locali delle proprie case, tenendo il più possibile chiuse le finestre e a non utilizzare i condizionatori. Inoltre è stata disposta un'ordinanza di divieto di bagnazione. Il Centro Operativo Comunale di Senigaglia coordina gli interventi per la gestione dell'emergenza in collaborazione con la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile. Una ventina i vigili del fuoco che sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento del ruogo con nove mezzi giunti anche da Ancona. Le fiamme hanno quasi completamente distrutto il cappannone industriale che si estende per circa 2000 metri quadrati e nel quale erano ammassati resine, profumi, saponi e altro materiale utilizzato per il confezionamento di prodotti per l'igiene personale e la cosmesi. Per ora non ci sono state richieste di assistenza pervenute al centralino del 118, al pronto soccorso e ai medici di base ma sono ugualmente stati aumentati nel territorio in mezzo a disposizione per eventuali chiamate. Nelle prossime ore saranno comunque effettuati nelle zone limitrofe dei campionamenti dell'aria e del terreno per la ricerca di eventuale presenza di polveri pericolose e sarà acquisita con la collaborazione della proprietà della ditta tutta la documentazione relativa alla natura dei prodotti e degli imballaggi andati in fumo per condurre uno studio più approfondito di particolari rischi per la salute pubblica.